Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata del TGP Oggi parleremo della nostra settimana e della nostra programmazione Arriviamo subito a mercoledì e avremo prima del karaoke una sorpresa Ma di questa sorpresa ce ne parlerà a 100% meramente Grazie Samuel per la linea La novità prima del karaoke questo mercoledì sarà un gioco musicale Se sai riconoscere 7 canzoni in 40 secondi vinci una settimana in un residence per 4 persone Per partecipare vi consiglio di prenotare al numero in sovraimpressione Da 100% a Merlotti è tutto A Bombazzo Bene ora veniamo al programma di giovedì Noi giovedì avremo l'opportunità e l'onore di avere qui a Piquic Niente po' po' di meno che i musici di Guccini In pratica sono il gruppo che ha accompagnato Guccini In tutta la sua storia musicale Quindi avremo l'opportunità anche di sentire i brani che hanno portato al successo Guccini Quasi come se Guccini fosse proprio qui In una serata indimenticabile Vi invitiamo attento a partecipare Giorni sulla strada Nessuno che mi carichi Nessuno che si fermi Mentre tu Chissà se aspetti me Ora veniamo al weekend E appunto ce ne parleranno Fungo e il buon giro A voi la linea Grazie Salvo per il collegamento Allora venerdì 13 ottobre avremo live dei plug-in Che sarà una serata dedicata alle cover Tutte in acustico Amiche e amici del Piquic Ci vediamo venerdì 13 ottobre Al Piquic ovviamente con i plug-in Acoustic Show Un acustico molto particolare Canzoni che in Unplugged non sentite quasi mai E una parte della scaletta che voi deciderete insieme a noi Come lo saprete venendo al nostro concerto Venerdì 13 ottobre Vi aspettiamo Plug-in Acoustic Show Dal buon giro E Fungo Questo è tutto A voi subito Bene ringraziamo Fungo e il buon giro per appunto un intervento Dunque arriviamo a sabato Sabato 14 Avremo un grande evento rock Con appunto i Quadra Che in questa stessa sera appunto In cui loro parteciperanno In questo grande evento Sperà proprio qui a Piquic Avranno l'opportunità di girare un video live del loro show Quindi siete benvenuti Bene per quanto riguarda domenica Diamo la linea a Daniele il Siciliano A te la linea Domenica Tutte assieme al circolo Piquic Fu capare a fare una parola di pesati E adesso Scusatevi Ma come cucino Ne facciamo una parola di pesati Facciamo i modi Per questa puntata del TG Piquic è tutto Noi ci vediamo alla prossima settimana Mi piace 100% Merlotte è tutto Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Grazie a tutti